Ed eccoci ritrovati su One Piece, dovevamo comunque fare il capitolo due episodiata in un luogo da cento chilometri, beh, e andiamo. Intanto ho portato un po' abatti, gente, e l'ho portato un po' abatti, in giapponizoro stavolta. Scusate. 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 Che fatti. e negli altri non hanno messo già questo pezzo c'è il fatto di Bellamy non l'avevano messo no scusate perché non lo so non lo so stavo la tua ma no ma Grazie a tutti. 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 Ma questo qua è il tizio... Il cazzo si chiama? È quello... C'è nel... Address rosa, non colosseo. Grazie a tutti. 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 a tutti.